aia ma sei scemo non ti ho mica detto chuck scusa chuck aia ma sei scemo adesso c'è che l'hai detto però è bella a tutti i zistra kenzi siamo qui riuniti oggi per parlare di harry potter e la camera dei segreti eri dai l'hai già fatto sta storia però è sonic 2 sonic 2 non è quello con daniel rathcliffe no la prossima volta se vuoi facciamo la recensione dell'ultimo libro di token ok mi piace comunque stiamo parlando di un gioco del 1992 un gioco che è uscito sull'onda del successo del primo subito dopo neanche un anno esce il sequel diretto di sonic di hedgehog episodio 2 wow che immaginazione come i dischi delle zeppelin 1 2 3 4 con tantissime nuove grandissime novità ovvero novità potenti niente tutto uguale tipo lo stage iniziale identico praticamente no in realtà scherzi a parte pieno di tantissime nuove novità anzitutto questo gioco ha venduto un macello ha venduto quante sei milioni di copie in sei mesi in sei mesi una cosa spropositata per l'epoca è uscito per sega mega drive per sale giochi telefono cellulare virtual console xbox live blackberry ios steam psn e si aspetta anche per la tazza del caffè no quello non si aspetta va bene non aspetta nessuno esatto sad tazzo del caffè forever alone senza sonic la trama la trama di questo gioco c'è per una volta c'è esatto il cattivo dottor eggman è riuscito a scampare alla distruzione alla furia del porco spino blu purtroppo le sue macchine in morte non erano abbastanza efficaci e ha deciso di prendere un attimino di pausa sonic nel mentre col suo bel biplano perché ha un biplano non l'avevano detto e non si vede nel gioco però c'è un biplano però nella storia c'è si vede all'inizio di sonic 3 vabbè comunque c'è un bel biplano e nella serie tv forse sì in sonic x si vede arrivando su quest'isola che un tempo era popolato dagli inchidna cioè la stessa razza di cui fan parte nucleus knuckles che si vedrà però nel gioco successivo ovvero sonic 3 che è il successivo nel senso che è il 3 però in realtà c'è sonic cd prima esatto che è un 2.5 a parte che non c'entra niente come pathfind e su quest'isola ci sono i 7 smeralli del caos che è tipo la cosa più importante di tutti i sonic ci sono sempre sticcati smeralli del caos in ogni sonic tranne tipo nel primo nel cd che ci sono i smeralli del tempo però incontra cosa più importante di tutte quante il suo futuro miglior amico cioè la volpettina a due cose miles prower è soprannominato tess perché c'ha due cose e vola e vola ogni tanto tipo ma quindi c'è una novità cioè ci sono due personaggi ma mi vuoi dire che si può giocare anche in tre a questo gioco in quattro se attacchi due controller e ne stacchi altri due esatto due persone si può giocare in questo gioco oppure puoi far finta che gli altri due stanno giocando ma in realtà sono lì tristi come nelle pubblicità dove si vede la gente che quando gioca fa la faccia tipo con la console spenta schiacciano a caso che un vero giocatore dice ma cosa sta facendo nessuno muove il conami code differenze principali vabbè abbiamo detto che la trama è un pochino più complessa i livelli sono divisi in due non più in tre ciac ma è il contrario esatto sempre sbagliato succede anelli anelli di pastina esatto i piccolini e boh cose che hanno cambiato ah la cosa più importante di tutte gli special stage finalmente non è una roba che vomito esatto subito anzitutto non è una palla che rotola giù da un burrone circondato da quadrettini da epilessia esatto in pillole sonic è un tizio veloce che cazzo fa corre in un pistino e deve beccare gli anelli più ne becca più possibilità ci sono che alla fine trovi uno smeraldo del caos yes e quando ho tutti gli smeraldi del caos tutti e sette diventi se vuoi super sonic cioè vagamente preso da dragon ball perchè i capelli si rizzano c'è un'aura bionda gialla intorno a lui e lui diventa tutto giallo vagamente ispirato è super è effetti super saiyan super sonic super saiyan super saiyan eh no perchè c'ha i capelli ritti quindi è 2 super saiyan di secondo livello sonic 2 super saiyan di secondo livello esatto mi sembrava oga e cosa fai quando sei questo super sonic è come se fossi inizialmente il power up dell'invulnerabilità ecco i power up cosa fondamentale sono completamente identici nei due sonic episodio 1 e episodio 2 cioè il solito per andare un pochino più veloce il che è molto più veloce in realtà perchè in sonic 2 vai molto più veloce che nel primo infatti i livelli sono molto più lunghi si vedrà dal lag su questo video più lag di più perchè i 30 fps di youtube sono lì esatto il mercansico power up che ti dà 10 anelli stelle o quel cavolo che si vuol dire fanni stelle assolutamente il power up che ti dà la bolla per diventare le scime di monkey ball che non ti fai male è da lì che è nata l'idea assolutamente lo sapevo anch'io cosa me le dici queste cose che le so già le sanno tutti spero 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 lo so che tu non lo sai e adesso c'è metti mi piace stronzo se volete continuare con questo video mandate 20 euro al seguente codice IBAN 3 e in realtà ci guadagnano sempre qualcun altro però benissimo che ha un IBAN che è 3 l'IBAN 3 li mando anch'io vabbè vabbè boh altre novità boh ah ci sono i trampolini assolutamente trampolini booster e spirale giuanti al booster il motorino ok vabbè il booster e dopo ovviamente con l'espansione per rendere più potente la console ci saranno i 125 che sarà perché c'è in realtà un'espansione di questo gioco vero? sì sì l'espansione di questo gioco figa questa cosa che in realtà non è un'espansione è un gioco a sé è un gioco a sé dove però c'è un buco sopra che se ci infili Sonic 2 puoi giocare a Sonic 2 con il personaggio di questa espansione che si chiama Sonic & Knuckles e quindi puoi giocare con Knuckles assolutamente perché in questo gioco si può giocare in due e io posso usare posso usare Tails se voglio il barabba che muore ogni due secondi ah sì perché come vedrete dal gameplay Tails quando si gioca da soli cioè con Sonic si suicida sempre è il mio personaggio preferito però in questo gioco fa una figura di merda che non è capace a muoversi non sa frenare e finisce nei buchi esatto beh le differenze più importanti tra il primo e il secondo Sonic quali sono? allora i livelli ce ne sono di più di più ma diversi cioè di più e diversi e diversi quindi più diversi più varietà più varietà meno diversi sono di meno i livelli sì c'è più varietà ma meno è difficile non ci siamo neanche messi a contare dovevamo prepararci sono un tot esatto i livelli sono un tot poi hanno messo la meccanica dello spin dash che c'è in ogni altro Sonic che finalmente l'hanno inserito esatto perché se sei davanti a una collina ripida devi andare indietro avanti no siamo lezzi abbassi l'analogico premi il pulsante ma forse ci siamo dimenticati la cosa più importante la colonna sonora di vasco rossa ah no ho sbagliato ho sbagliato gioco quella è una bar di passione amorosa è ingesto no volevo dire che ci sono i livelli sono più oltre a essere di più più varietà sono anche dillo tu che mi togli le parole di bocca più difficili cioè più complessi posso finire il gioco in modi diversi posso passare in zone diverse sì la cosa più importante di sonic tranne del primo è il truck è che è rigiocabilissimo sonic perché a meno che tu non fai avanti indietro come un pirla in teoria per arrivare in fondo a livello ci sono dei punti dove ti fa salire sopra e sotto esatto puoi tornare indietro puoi passare nelle famose spirali esatto possono succedere cose entri in dei tubi ma è vero che adesso Edge Dog ha delle armi più potenti vero? beh devo dire che nel livello dell'acqua ha dato il meglio di sé con un strumento di morte passionale ovvero che attacca un tubo dell'acqua e drena la fossa biologica e te la versa addosso da sopra e tu muori e io non capisco perché non muori per la goccia muori perché la goccia ti sbatte in acqua e muori non è proprio la macchina che muore è l'acqua solida è l'acqua che è fatta di acciaio esatto e ti spinge nell'acqua non di acciaio che però è viola e se il video non vi è piaciuto sti cazzi esatto e la prossima volta invece parleremo della storia di Jar Jar Peggy 16